Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla pagina della cronaca giudiziaria. Vi riferiamo di un blitz antidroga operato a Niscemi dalla polizia, tre le persone arrestate, recuperata un'ingente quantità di cocaina, hashish e marijuana. Blitz antidroga della polizia a Niscemi, tre gli arresti per detenzione di cocaina, marijuana e hashish. Le manette sono scattate ai polsi di Salvatore Cilio, 40 anni, Giuseppe Zappalà, 43 e Carmelo Russo, di 34 anni. Gli agenti del commissariato, diretti da Andrea Monaco, hanno tenuto sotto osservazione l'abitazione di Cilio, soggetto conosciuto alle croneche per i diversi precedenti per spaccio. Un viavai di persone che ha insospettito la polizia. L'irruzione ha dato gli esi disperati. All'interno c'erano Zappalà e Russo. Nella vetrinetta della salone cucina, nascoste all'interno di un contenitore per tabacco, c'erano 14 involucri di carta stagnola preconfezionati, contenente sostanza vegetale essiccata del tipo marijuana, del peso lordo complessivo di 16,9 grammi. Sempre all'interno di un contenitore per tabacco, è stata rinvenuta una busta in accello fanno con all'interno della marijuana essiccata, del peso complessivo lordo di 33,3 grammi. Inoltre, sul tavolo di una delle camere, gli agenti hanno rinvenuto un piatto di porcellana contenente della sostanza superfacente del tipo cocaina del peso netto di 0,5 grammi ed una scheda telefonica utilizzata per il taglio della sostanza. Su un altro piatto di porcellana, invece, è stata trovata altra cocaina del peso netto di 10 grammi e altre due schede telefoniche, oltre ad un bilancino di precisione perfettamente funzionante con adagiato, sopra il piatto di pesata, un involucro in accello fanno con all'interno della cocaina, del peso lordo di 0,25 grammi in fase di confezionamento ed un altro involucro già confezionato con all'interno 0,24 grammi di cocaina. Sempre all'interno della salone cucina dell'abitazione, su una sedia, c'erano 470 euro suddivise in banconote di medio e piccolo taglio a provento dell'attività di spaccio. A Carmelo Russo, sottoposto alla misura della soviglianza speciale di pubblica sicurezza, è stata contestata la violazione del provvedimento in quanto trovato in compagnia di altri soggetti pregiudicati. I tre arrestati, dalle ultime ore, sono stati reclusi nel carcere di Contrada Balate, a Gela, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Varie persone a Gela stanno raccogliendo soldi per la realizzazione della tradizionale cena di San Giuseppe, prevista a marzo, senza essere stati autorizzati, lo dice Don Lino di Dio, rettore della chiesa di Sant'Agostino a Gela, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni. Don Lino di Dio ricorda che sono autorizzati solo ed esclusivamente coloro che si sono registrati e ai quali è stato rilasciato il permesso in vita, dunque a dubitare e a segnalare coloro che abusivamente raccolgono soldi. Comune di Gela e Federfarma hanno siglato la convenzione che avvia in città il progetto sperimentale della farmacia sociale. Il sindaco Domenico Messinese ha sottoscritto l'accordo con la presidente provinciale della Federazione Unitaria dei titolari di Farmacia Maria Ippolito. L'intesa prevede che i fondi stanziati dall'ultimo bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale vengano utilizzati per agevolare l'acquisto di medicinali destinati alla cura della popolazione pediatrica appartenente a fasce sociali economicamente disagiate. Federfarma, ricevuta la somma, provvederà ad assegnarla alle farmacie gelesi aderenti in modo da favorire la maggiore copertura possibile sul territorio. Il ribasso del 10% sui prodotti di classe C sarà praticato dai farmacisti, mentre le somme comunali copriranno il 60% dell'importo. L'emendamento al bilancio per avviare il progetto della farmacia sociale è stato presentato da numerosi consiglieri comunali, tra i quali Giuseppe Guastella, firmatario in merito anche di una mozione arrivata già prima in aula. È una giornata importante per la città di Gela, per le farmacie di Gela e per tutte le persone che vivono in una condizione di disagio economico. È un momento bellissimo che vede la politica al servizio del cittadino. Io devo fare complimenti al sindaco di Gela, all'amministrazione e anche al consiglio comunale. Riusciamo a dare delle risposte, delle risposte appunto concrete. Tutto nasce da un progetto che nasce un anno fa, il progetto della farmacia sociale sotto una mia proposta appunto. Oggi la farmacia sociale diventa realtà anche a Gela. Vediamo che praticamente dopo circa un anno questo progetto si è concretizzato e a breve anche a Gela diverse famiglie, in particolare tutte le famiglie con un ISEE uguale o inferiore a 7.000 euro potranno usufruire di uno sconto del 70% per quanto riguarda i farmaci di classe C che sono tutti i farmaci a pagamento. Diamo la possibilità alle persone più bisognose di accedere ai farmaci per quanto riguarda proprio l'età pediatrica. Un progetto nato dalla proposta della Commissione Affari Generali e che va nella direzione della proposta che serve a dare delle risposte al territorio. La Giunta l'ha accolta con convinzione perché siamo sicuri che va a perdere proprio quelle risposte che vengono chieste dal territorio. Ci auguriamo magari il prossimo anno, perché no, di ampliare questo capitolo di spesa ulteriormente per dare la possibilità ad altre fasce deboli come gli anziani o tanti altri cittadini che effettivamente si ritrovano in una condizione di bisogno di poter usufruire, soprattutto in un momento di difficoltà come può essere l'attraversare di un semplice raffreddore alle malattie ovviamente più complicate, la possibilità di poter ricevere un supporto economico fattivo e insomma poter non curarsi ovviamente di questa condigenza economica. Gela in età arcaica a volte ritornano. Si tratta della mostra promossa dal polo regionale di Gela e di Caltanissetta che si svolgerà domani alle 10 presso il Museo Archeologico Regionale. E adesso parliamo dell'iniziativa dell'Unitalsi che si svolta ieri a Gela, donato anche un pulmino. Preseduta dal Vescovo della Diocese di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana, assieme ad Ollino di Dio e l'assistente spirituale donna Rosario Sciacca, si è svolta ieri nella chiesa Sant'Agostino di Gela la celebrazione acristica per i 150 soci dell'Unitalsi, presente il personale volontario e i ragazzi con abilità diverse. È stata l'occasione per vivere momenti di comunione fraterna, un appuntamento annuale di questi tempi. La presenza di tutti gli associati, chiaramente con gli ammalati diversamente abili, in un certo senso ci ha fatto vivere un momento di grazia, di paradiso, come si suol dire, come lo diceva il nostro San Filippo Neri. Perché? Perché tutto questo? La parola del Signore oggi ci invitava a chiedere un segno al Signore. Questo segno è presente in ciascuno di noi, perché l'Emmanuele che nella persona di Gesù di Nazareth si è incarnato per la salvezza dell'umanità, oggi lo vediamo che continua questo processo di vicinanza, di prossimità di Dio, sarei dire di vera e propria incarnazione, nel cuore di tutti noi, non solo quando facciamo del bene o quando lo riceviamo, ma quando anche noi custodiamo questi piccoli che il Signore ci ha donato per incontrarlo sempre più credibilmente. Subito dopo la celebrazione è stato benedetto un pulmino attrezzato anche per il trasporto di disabili. Il mezzo è stato donato dalla Fida Gela. Ieri erano presenti il Presidente Alessandro Tallegra ed il Consigliere Raffaele Giocolano. Abbiamo deciso assieme a me, al Consiglio di Amministrazione e alle segreterie di CGL, Cisle e Willi dei Chimici di fare questo dono all'Unitalsi. Ci siamo riusciti dopo cinque anni, ma ci siamo riusciti, anche perché il Fida all'Unitalsi sempre gli ha dato un piccolo contributo nelle nostre possibilità che abbiamo avute finanziarie. Ancora una volta dove non arriva l'amministrazione o comunque lo Stato c'è la mano del privato. Io sono riconoscente al Fida per aver dato la possibilità di donarci questo pulmino che ci dà la possibilità di poter trasportare i nostri iscritti alle varie giornate che noi facciamo. Quindi un segno di riconoscenza enorme a questo gruppo del Fida di Gela. Noi dell'Unitalsi sempre ci prodighiamo per ragazzi diversamente abili. Per noi questo è anche un motivo di speranza per continuare la nostra attività verso le fasce più deboli dei ragazzi diversamente abili. Alla fine delle manifestazioni di ieri i partecipanti hanno preso parte al consueto pranzo di Natale, donati regali e panettoni a tutte le famiglie dell'associazione. Domani al Teatro Eschilo alle 17 si trarrà il consueto concerto di Natale dell'ensemble della scuola Ettore Romagnoli diretto dai professori Daniele Mammano, Sebastiano Berritta ed Edemondo Lariva e del coro della scuola diretto dal professore Giuseppe Gennaro. Gli studenti del corso di indirizzo musicale e i loro docenti presenteranno brani natalizi tradizionali e classici ospite d'onore dell'evento sarà Samuele Mammano. E ora occupiamoci del Digital Coffee, si tratta di un'iniziativa promossa dalla scuola Luigi Capuana di Gela. Il quarto circolo didattico Luigi Capuana di Gela diretto da Cetta Mongelli premia gli alunni di terza, quarta e quinta classe più meritevoli in programmazione digitale. Si tratta del pensiero computazionale, un approccio inedito ai problemi e alla loro soluzione. Con il coding i bambini sviluppano il pensiero computazionale e l'attitudine a risolvere problemi più o meno complessi. Non imparano solo a programmare, ma programmano per apprendere. Imparano con strumenti che li divertono dal monitor al tablet. Sta a loro animare, far prendere vita, imparare a far muovere i loro personaggi. Cioè imparano a raggiungere un obiettivo come evitare un ostacolo o affrontare un'emergenza. Se raggiungono un obiettivo hanno imparato come fare. E questa mattina appuntamento con il Digital Coffee nell'aulomagna della scuola. I genitori fanno di tutto per scrivere ai bambini a corsi di sci, di nautica, eccetera. Pensiamo a cominciare a farli lavorare su corsi di coding. Che cos'è? Noi come scuola abbiamo partecipato alla giornata europea del coding. Abbiamo lavorato molto con i bambini di terza, quarta e quinta. E oggi vogliamo premare i bambini che sono riusciti da soli a definire un percorso significativo. Che cos'è? Noi dobbiamo lavorare sul pensiero computazionale. Cioè quella parte scientifica e culturale che è la base dell'informatica. La capacità di affrontare e di dare una soluzione, di porsi e poi di dare una soluzione a problemi complessi. E quindi la capacità di programmare. Questo è coding, programmazione. E allora desideriamo che attraverso questo lavoro, delle ore di coding, i nostri bambini escono dalla nostra scuola non più fruttori passivi di videogiochi. Perché noi diciamo che un bambino a 5 anni è bravissimo ad usare computer o tablet. Non è così. Il bambino ancora è fruttore passivo di ciò che dagli altri viene imposto. Invece dovrebbe diventare attivo, cioè programmare da sé i propri videogiochi o altri percorsi di altro tipo. E allora questo è quello che dobbiamo creare in questa società. Che il pensiero computazionale o il coding diventi una materia di studio, una disciplina come all'epoca si cominciò a lavorare molti, molti anni fa sulla matematica, sulla fisica e sulla chimica. E ovviamente si lavorerà in maniera trasversale, cioè nel senso che noi dobbiamo attivare e cambiare percorsi completamente diversi di curricula. Ripeto, perché questi bambini non siano fruttori passivi ma programmatori. Cioè non è una materia che serve solo a chi fa di questo proprio lavoro, ma serve a tutti in questo mondo complesso, informatico e digitale. Come possiamo dire, per intenderci, serve la lingua inglese per entrare nel mondo del lavoro. Qualsiasi lavoro si faccia è uguale inglese, pensiero computazionale, coding, programmazione, informatica. Potrà essere visitato fino al 22 dicembre e dal 28 al 30 dicembre, dalle 18.30 alle 22.30, il presepe vivente allestito nella suggestiva piazza Santa Madre Teresa di Calcutta, antistante la parrocchia Santa Maria di Betlemme a Gela, retta da donna Giovanni Tandurella. È stato ricostruito il villaggio di Betlemme con strutture semplici ed in cui è stata inserita la natività e le ammientazioni tipiche dell'epoca con la rappresentazione di alcuni degli antichi mestieri, falegnami, fabbri, lavandaie, fornai, remaggi, re Erode con la corte e i soldati romani arricchite dalla degustazione di pietanze gastronomiche che richiamano le tradizioni culinarie legate al nostro territorio. La sezione scout Fabio Rampulla di Gela col patrocinio del comune presenta il presepe vivente ai prossimi 21, 22 e 23 dicembre dalle 19 alle 21 presso il centro scout di via Mongibello, Angolo via Giulio Sidagusa e torna il presepe vivente allestito dalla associazione SMAF Sport, Musica, Arte e Folclore presieduta da Gaetano Davide Arizzi appuntamento ai prossimi 25, 26 e 27 dicembre e 5 e 6 gennaio nel quartiere Canalazzo a dalle 19 a mezzanotte. Una regida di Natale che ha suscitato l'interesse di tutti e un lavoro preparato nei minimi particolari che questa mattina ha entusiasmato i presenti è l'iniziativa che si svolta nel presso Nicola Scrin di via Borromini che fa parte dell'istituto comprensivo Don Milani a Gela. Gli alunni hanno dato il meglio di loro stessi e gli applausi finali hanno rappresentato la giusta ricompensa. La scuola oggi ha organizzato una giornata particolare che si ripeterà domani pomeriggio nella piazza Roma proprio per dare anche a tutta la cittadinanza la possibilità di vedere gli spettacoli che la scuola organizza coinvolgendo un numero di alunni molto molto elevato circa 350 alunni che rappresenteranno appunto il Natale di oggi e il Natale del passato cogliendo tutti i momenti di indreccio tra i vari periodi storici in cui si è festeggiato il Natale. Questa scuola sta proseguendo il suo ruolo di custode privilegiato per quanto riguarda il Natale del presente e del passato. In questo viaggio ideale che questo bambino ripercorre ha ripercorso tutta la storia del Natale di ieri e del Natale di oggi. I bambini naturalmente hanno lavorato assieme e hanno condiviso tanti momenti. Tra l'altro hanno anche sperimentato i valori universali della pace e della fratellanza riportando il messaggio della capanna di Betlemme. Appuntamento con la trasmissione 10 domande 10. Questa sera alle 21. Nostro ospite sarà l'assessore comunale Rocco Darma. Le repliche, lo ricordiamo, sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Fai la cosa giusta. Differenzia i rifiuti. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, lunedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente. Conferire piccoli oggetti di uso domestico. Nastro adesivo, penne, carta carbone, oleata, plastificata e da forno, posate in plastica, sottovasi, bacinelle, materiali in plastica non di imballaggio, giocattoli, elettrici e nonna, cassette audio e video, floppy disk, cd, tv, spugne sintetiche e stracci sporti, cosmetici, calze in nylon, lumini votivi, pannolini e assorbenti igienici, sacchetti aspirapolveri, mozziconi di sigaretta. È assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o incolorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Per un'interazione di 16 ore, rischio basso, e del primo soccorso di 12 ore, rischio basso e medio. Gli interessati possono effettuare l'iscrizione presso la segretaria della Confacommercio Ascomgela in via Cicerone 104-110, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per informazioni c'è un numero telefonico 093-93-9718. E adesso parliamo di calcio, finisce 1-1 in uno stadio deserto, la gara Gela-Sarnese per i Biancazzurri. Il pareggio è giunto in zona Cesarini. Nella silenzio spettrale dello stadio presse di Gela, a gara, lo ricordiamo, giocata a porte chiuse per il provvedimento del giudice sportivo assunto dopo la partita persa da Gelesi sul campo della Leonzio, la formazione di Pietro Infantino e la Sarnese si dividono alla posta in palio con un pareggio per 1-1 acciuffato in zona Cesarini di Biancazzurri con Bonaffini che accontenta maggiormente la squadra del tecnico Gianluca Esposito, sicuramente meno i padroni di casa che forse pensavano di far di un sol boccone della squadra ospite. Sarnese che dal canto suo non può che essere soddisfatta e orgogliosa della gran gara messa in campo contro un Gela apparso sotto tono rispetto al match contro la Sigurale Onzio della settimana scorsa. Gela sicuramente meno brillante e confuso, atteso adesso dalla sfida sul campo della Turris si giocherà giovedì prossimo. La cronaca senza Fabio Campanaro squalificato, con il capitano Alessandro Bonaffini reduce da qualche noia muscolare che parte dalla panchina così come Angelo Bruno, Infantino mette dentro il neorivato Candiano, mentre l'altro nuovo volto in casa Gela, Alessandro Noto parte dalla panchina. Partenza a mille per la formazione di casa che colleziona al pronti via due interessanti calci d'angolo nei primi cinque minuti di gioco. Al decimo Montalbano sfrutta un rimpallo sulla conclusione del compagno di squadra Bonanno tirando a botta sicura, ma il portiere napoletano è attento. Al ventiduesimo gran botta dalla distanza di Candiano, ma ancora una volta l'estremo difensore ospite non si lascia sorprendere. Al venticinquesimo conclusione a giro di Montalbano, ancora Sorrentino attento. Al ventinovesimo però arriva la doccia fredda per i padroni di casa che subiscono la rete del vantaggio degli ospiti. Guidelli si libera bene sulla fascia mettendo dentro un pallone delizioso per Figlioria che mette dentro con facilità. Al trentasettesimo ancora un pericolo per il Gela con Guidelli che prova la botta, ma Gambuzza si oppone in scivolata. Al trentottesimo ci prova Bonanno con una semirovesciata in aria, palla alta di poco. La prima frazione di gioco si chiude con il vantaggio inaspettato della Sarnese su un Gela voglioso ma poco preciso. Nella ripresa nessun cambio per entrambe le formazioni e stesso copione almeno nei primi dieci minuti di gioco. Gli ospiti sempre attenti e precisi rispetto ad un Gela arremvante ma impreciso. Infantino prova la carta Nassi al posto di Buonanno. Al quindicesimo occasione per il Gela con Montalbano che tenta la girata di testa sul cross di Candiano ma c'è il miracolo del portiere ospite. Sul successivo calcio d'angolo in mischia ci prova Brugaletta, palla che si infrange sul muro difensivo eretto dalla Sarnese. Al ventitresimo pallone con il contagiri di Evola per Nassi che per un non nulla non trova il guizzo vincente. Palo di Kosovan che di testa prende il legno al trentasettesimo sugli sviluppi del quinto corner della gara a favore dei biancazzurri. Al quarantaquattresimo Buon Affini servito da Evola infilza il portiere sorrentino e mette la firma sul pareggio. Gli ultimi assalti si concludono con Kosovan che potrebbe raddoppiare ma che sciupa clamorosamente da due passi. Finisce uno a uno. Giovedì prossimo ricordiamo che il Gela scenderà nuovamente in campo. I biancazzurri saranno di scena a Torre del Greco. E a fine gara Flavio Centamore ha ascoltato la dichiarazione dei due allenatori. Io credo che non è facile giocare contro una squadra che già c'era successo con la Palmese e c'era successo con la Sankataltese. Io credo che i ragazzi hanno lavorato tantissimo. Credo che il primo tempo abbiamo sbagliato soprattutto l'ultimo passaggio. Però l'interpretazione, il ritmo io credo che sia sempre la solita squadra. Sono partite che nascono in certa maniera e anzi io sono contento perché i ragazzi fino al 95esimo hanno provato di vincere. Abbiamo avuto le occasioni per vincerla però non ci siamo riusciti. Però questi ragazzi anche oggi nessuno gli può dire che non si sono impegnati. Hanno corso 95 minuti. C'era qualcuno magari che ha reso di meno. Però adesso ci prepariamo per l'ultima partita dell'anno che andiamo a Torre del Greco. e domani ricominciamo a lavorare per preparare questa partita. Mister, col senno di po' si potevano fare dei campi diversi tipo provare l'ingresso di Alma negli ultimi minuti della gara? Ma già le sostituzioni le hanno fatte. O Bonaffini o lui. Sì, anche perché abbiamo fatto entrare Costantino aveva dei problemi. Allora abbiamo messo Budale a destra e il segreto a sinistra. Sono tre i campi. Io credo che sono chi è entrato veramente ha dato una scossa alla squadra. Hanno fatto tutti la loro partita però. Quando l'allenatore cambia abbiamo cambiato anche un sistema. Siamo passati a un 4-2-3-1. I ragazzi hanno veramente fatto un secondo tempo. Credo che abbiamo giocato sempre a una porta. Peccato perché ci sono state tante situazioni importanti però non siamo stati lucidi a concretizzarli. C'è stata una bella partita tra due squadre che hanno cercato di offrire un calcio propositivo. Chiaramente ognuno con le sue armi. Noi avevamo studiato le giocate del Gela. Sapevamo che venivamo ad affrontare una squadra molto forte che provava giocate in verticale e rapidità. Abbiamo provato a chiudere le loro linee di passaggio abituali per poi provare a ripartire in contropiede allargando gli spazi. Nel primo tempo ci siamo riusciti molto bene. Purtroppo poi nel secondo tempo la pressione del Gela, un po' di preoccupazione nel mantenere il risultato. Ci siamo abbassati troppo, abbiamo concesso troppi cross dagli esterni al Gela. Il rammarico più grande è che il gol è arrivato al 44esimo da una palla buttata dietro ai 50 metri. Però faccio complimenti ai miei ragazzi per la prestazione che hanno offerto sicuramente, per come hanno interpretato la gara. Complimenti al Gela che non scopriamo noi una squadra che gioca bene, organizzata bene, allenata bene e a cui noi auguriamo le migliori fortune. Nel campionato di eccellenza il terreno a Gela è stato battuto per 1-0 dal Marsala. Si tratta della prima sconfitta con il nuovo tecnico Totò Brucculeri in panchina. I gerarossi hanno fallito un calcio di rigore con lo grasso. In classifica la squadra gelese è sempre ultima con 7 punti. Un sorriso ai piccoli ospiti del reparto di pediatria dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Per questa ragione e per augurare un sereno Natale alle famiglie dei giovani amici biancazzurri e al personale che opera all'interno della struttura ospedaliera di Gela, domani mattina alle 11.30, gli atleti e lo staff tecnico e dirigenziale del Gela si regheranno per salutare i bambini presenti nell'unità operativa diretta dal dottore Rosario Caci. La pagina dello spettacolo in proiezione Arcine Teatro Antidoto di Macchitella Gela il film La Stoffa dei Sogni con Ennio Fantastichini e Sergio Rubini. Sono due gli orari di programmazione, 19.30 e 21.30. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie. 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 Grazie.